ciao ragazzi in questo secondo tutorial intanto andiamo a vedere una funzione molto importante che è in caso vi scompaiono tutte le finestre come in questo caso andate su windows e cliccate qui workspace reset ed ecco qui che l'interfaccia torna come quella normale ora andiamo a vedere come funziona lo strumento secchiello che è molto utile intanto qui cancelliamo il layer e vediamo come funziona il tutto naturalmente su questo layer qui non possiamo disegnare quindi andiamo a vedere la funzione base di the layer io ho a disposizione due layer quello raster e quello vector io in questo caso uso proprio la raster andiamo ad assessare lo strumento penna andiamo a fare un piccolo scarabocchio così questo per farvi capire come funziona questo è il layer di base naturalmente dovete cercare di chiudere sempre la figura bene andiamo a creare un nuovo layer naturalmente da qui possiamo impostare l'opacità del livello del layer da qui andiamo a creare un nuovo livello raster andiamo a selezionare lo strumento secchiello che è qui vediamo impostare il colore qui trovate le varie opzioni se ad esempio andate a selezionare questo naturalmente vi colora tutta la figura se andate a selezionare questa opzione qui invece vi colora solo questa figura qui quindi vedete molto comodo questo per esempio se fate uno sketch e disegnate qualsiasi cosa e volete curare velocemente la figura questo è uno strumento fondamentale ora andiamo a vedere tutte le varie penne che sono all'interno del programma qui intanto abbiamo a disposizione da strumento selezione qui naturalmente seleziona tutto questo invece seleziona solo il livello che si sta editando quindi ecco in questo caso andiamo a selezionare questo sotto dove c'è il disegno è qui e qui seleziona solo la parte che è disegnata cliccando su the selected e seleziona il tutto i colori ora sono un po' sbiaditi in questo caso aumentiamo l'opacità andiamo a cambiare il colore con il tasto questo possiamo andare a selezionare il colore direttamente il colore selezionato poi abbiamo a disposizione decine di penne da qui possiamo possedere la densità cioè ora è proprio al minimo se mettiamo al massimo crea questo tipo di effetto ovviamente la grandezza da qui deve impostare come vi torna meglio oltre a questo ci sono anche oltre al pencil c'è anche il pastello vari strumenti che potete trovare e qui abbiamo a disposizione una valanga di roba questo serve per creare questo tipo di effetto trasparenza insomma ci sono migliaia qui all'interno del programma oltre a quelli che potete scaricare all'interno del catalogo giusto per far vedere come funziona la capacità è sempre la stessa le opzioni sono sempre le stesse gli strumenti potete impostare da qui caso se incassinate il tutto e non sapete più come fare fate su reset e ve rimposte il tutto in automatico andiamo a vedere l'ultimo strumento strumento decorazioni anche qui abbiamo a disposizione tantissimi effetti già presenti all'interno del programma alcuni non funzionano ma comunque sono molto semplici da gestire su alcuni ad esempio questo che ho selezionato adesso non si può cambiare il colore della figura e resta di standard così quindi anche se cambiate colore non si vede cambiamenti naturalmente ce ne sono davvero tantissime da vedere ora in questo caso non posso far vedere le tute sennò è un video da un'ora è un problema queste sono proprio quelle di base giusto per far vedere che di roba ce n'è davvero tanta qui c'è anche a disposizione delle linee che sono spettacolari chiaramente possiamo anche cambiare il colore questo magari per fare un volantino è perfetto bene scusa questa piccola serie questo piccolo parentesi sui strumenti di decorazione andiamo a vedere la gomma che è questa sotto come vedete cancella subito tutto se avventiamo un pochino lo zoom questa super giù è come la penna cioè se impostate questo vi cancella in stile quasi pixel art invece così insomma ci lascia un pochino più di anti leasing probabilmente anche per questa potete impostare l'opacità quindi cancella solo ecco se la impostate a uno ci mette un'ora per cancellare un piccolo tratto e niente questo è lo strumento gomma il mio consiglio è sempre di lasciarla al 100 così non dovete restare a perdere un'ora per cancellare alla prossima alla prossima ecco